La prima cosa che vediamo è la correzione stessa, che si nota la correzione stessa fatta da Giacomo Leopardi sulla parola immensità e la scrive sopra la parola infinità. E' il manoscritto originale dell'Infinito di Giacomo Leopardi in mostra a Cortona in occasione dell'edizione 2017 di Cortona Antiquaria. L'esposizione è promossa dai comuni di Cortona e Visso, proprietario del manoscritto, e dalla normale di Pisa, città dove Leopardi scrisse il risorgimento e a Silvia. Il manoscritto, il quaderno, quindi un quadernino piccolo, è aperto sulla pagina dell'Infinito, ma chiaramente in altre pagine ci sono scritte altre opere di Leopardi, prove delle operette morali, le lettere scritte dallo stesso Leopardi. E nella pagina a fianco, quindi quella davanti, c'è addirittura una dichiarazione del fratello che riconosce che quella è la scrittura autografa di Giacomo Leopardi, del caro fratello, come lo definisce. A dare il via alla 55esima edizione di Cortona Antiquaria è stato il Vice Ministro dei Trasporti Riccardo Nencini che ipotizza una defiscalizzazione come manovra per dare maggiore respiro a questo settore. Si può fare qualcosa di più con la defiscalizzazione e quindi per chi interviene a sostegno di opere artistiche, monumentali, che devono essere recuperate e restaurate, lì l'intervento per defiscalizzare l'intervento deve essere più alto.